Buona domenica ed è bellissimo ritrovarsi finalmente diciamo in una condizione di normalità. Diversamente da quello che mi capita ho davanti a me dei fogli perché le scene di cui voglio parlarvi sono diverse e non volevo dimenticarmele. Noi partiremo innanzitutto dalla mia pratica di psicanalista e da come la pelle entra in scena nella seduta dell'analisi. Poi evocheremo qualche altra scena biblica ma il filo rosso sarà un po' diciamo così cosa insegna la psicanalisi sulla pelle. Partiamo da una formula da un aforisma in realtà di Nietzsche ripreso da Lacan che dice l'idea che la superficie sia superficiale è un'idea superficiale che significa che la superficie non è affatto superficiale. Potremmo dire lo dice Nietzsche nella nascita della tragedia i greci il greco amava la superficie perché aveva un senso profondo dell'esistenza. Noi possiamo amare la superficie del mondo la pelle del mondo possiamo amarla immensamente solo se abbiamo un senso profondo dell'esistenza del mondo. La prima domanda che mi porrei proprio come come psicanalista è se la pelle parla. Questa domanda la pelle parla mette subito in gioco quello che noi incontriamo come delle forme di somatizzazioni della pelle. I dermatologi, la clinica dermatologica medica sa bene che molte se non tutte, gran parte delle dermatiti che affliggono il nostro corpo, che sono delle lesioni organiche, non sono sintomi sterici, sono delle lesioni effettive che intaccano diciamo così la nostra pelle, molte di queste dermatiti hanno delle cause psicogene. Come dire la pelle si ammala, la superficie si ammala perché c'è qualcosa dentro nel profondo che non sta bene. Gli esempi più clamorosi nella mia pratica clinica sono gli esempi dei bambini, le dermatiti infantili, perché i bambini sono effettivamente dei soggetti psicosomatici. In modo straordinario il bambino è una carta assorbente, il suo corpo è una carta assorbente, molto più di quello degli adulti. E quindi quando l'ambiente in cui un bambino vive è fatto di turbulenze emotive, affettive, di traumi, di incomprensioni radicali, noi abbiamo ecco come prima risposta delle somatizzazioni gastrointestinali per esempio, tipicamente, ma anche dermatologiche tipicamente. Prima di farvi un piccolo esempio clinico possiamo sorridere pensando ad un altro esempio meno cruento di quello che farò fra poco di una mia giovane paziente adolescente, minorenne, che ottiene da parte di genitori una famiglia molto severa, il permesso di uscire ad un primo appuntamento, col ragazzo della sua classe che da tempo la corteggia e che lei corrisponde profondamente. E dunque c'è un tempo di attesa dopo aver avuto il benestare da parte dei genitori. Finalmente arriva il giorno dell'appuntamento, la sera, perché esce di sera per la prima volta e nella giornata, quando si specchia la mattina, fiorisce sulle sue labbra un grande herpes, che è al tempo stesso il segnale di un conflitto interno, ma anche una barriera protettiva, come dire, no? La bocca con l'herpes non si bacia. L'esempio più cruento invece è l'esempio di un piccolo paziente, di un bambino che sin da poco dopo la sua nascita ha riempito il suo corpo di piaghe, una dermatite violenta che lo spinge a grattarsi in continuazione e grattare le piaghe ovviamente produce un circolo vizioso per cui uno più si gratta, più sente prurito, è un inferno. E il corpo di questo bambino assomiglia un po' al corpo di Giobbe, di cui parla il testo biblico, un corpo pieno di pustole, piaghe. A cosa risponde la pelle di questo bimbo? Risponde inconsciamente, come solo l'inconscio dei bambini sa fare, ad un rifiuto originario da parte di sua madre. Questo bambino nasce in un momento in cui la madre si trova a avere una promozione attesa che avrebbe segnato, diciamo così, un salto professionale di grande importanza, le cose col marito non andavano bene, anzi immaginava di poterlo lasciare, resta incinta. E capite che una gravidanza in questo contesto non può che generare in questa donna un rifiuto. Questo rifiuto che poi nell'analisi con questa madre è emerso in modo chiaro, è come percepito da questo bambino, che risponde con la somatizzazione dermatologica, che se ci pensate al tempo stesso, il marchio del rifiuto. Sono una piaga, per te sono una catena, per te non dovevo esistere, ma al tempo stesso la domanda che costringe la madre ad essere sempre presente, vicino a questo bambino che rifiuta. Perché la dermatite allora assomiglia a una specie di grido, di invocazione muto che il piccolo rivolge alla mamma, non mi abbandonare, resta con me. La pelle parla in questo caso. Ma la pelle parla anche in un'altra scena molto bella, commovente, che riguarda la pratica clinica di Jacques Lacan. C'è un video su YouTube dove voi potete ascoltare questa storia veramente struggente. È una paziente, ormai una signora anziana, ma allora era una giovane donna che frequentava lo studio di Lacan, perché dopo l'esperienza drammatica della prigionia nei campi, è una donna ebrea, non riusciva più a dormire la notte e quindi l'insonnia era diventato un flagello per lei. E parlando della sua insonnia, in una seduta racconta che sempre si sveglia alle cinque di mattina, perché le cinque di mattina era l'orario in cui la Gestapo entrava nelle case degli ebrei e praticava il loro sequestro, la loro deportazione. In quel momento, mentre la donna sta dicendo questo, sta evocando la Gestapo, Lacan si alza dalla sua seggiola, posta dietro il divano, come accade ancora oggi nell'esperienza della psicanalisi, va verso la donna e le accarezza la pelle. Gestapo, che in francese vuol dire un gesto sulla pelle, noi tradurremo carezza. Lascia una carezza sulla pelle della donna. Nel racconto che la donna fa di questa seduta avvenuta 35 anni prima, dice che quell'incontro con la mano di Lacan, con la dolcezza della mano di Lacan, ha modificato per sempre il suo ricordo della Gestapo. Non c'è solo la Gestapo, non c'è solo l'orrore del trauma, la violenza del trauma, c'è il Gestapo. C'è una delicatezza inattesa, imprevista, inaudita, che modifica quella scrittura traumatica che aveva condizionato sino a quel momento la sua vita. Si può essere anche senza pelle, lo diceva Armando nell'introduzione. Si può essere senza pelle quando ci si sente esposti, privi di difese. In una mia paziente questa sensazione, una paziente schizofrenica, questa sensazione di essere senza pelle era assolutamente quasi reale. Paziente schizofrenica, anoressica, quando sentiva l'odore del cibo, l'odore della pizza, l'odore della pasta o del sugo della pasta che cuoceva in cucina, temeva che le calorie potessero penetrare attraverso la sua pelle e farla ingrassare. Bastava l'odore, cioè la pelle non era un confine sufficientemente impermeabile alla penetrazione dell'odore. Allora scappava dagli odori, entrava in un armadio, nel suo armadio, si chiudeva nell'armadio e sopravviveva. L'armadio come forma secondaria della pelle, un'altra pelle, un altro contenitore che le poteva dare protezione. All'origine di questa schizofrenia, di questa anoressia, una scena, una scena traumatica, tante scene traumatiche, ma questa scena è come accade nei traumi, è come una pietra. I traumi assomigliano a delle pietre. Abbiamo delle pietre nella nostra testa. Queste pietre sono inscalfibili. Gestapo. Solo attraverso un incontro inaudito possono modificare la loro posizione. La pietra di questa giovane donna era, lei piccolina, con i capelli ricci. Nessuno in famiglia aveva i capelli ricci. La madre le tira i capelli davanti allo specchio e le dice, nessuno in famiglia ha questi capelli. In uno scatto di ira convulso, mostra che questa figlia non ha diritto di essere amata, che questa figlia non appartiene al sangue della famiglia, che questa figlia è un'estranea. C'è un altro paziente invece che ha la pelle dura, come si dice, no? Hai la pelle dura, si dice di quelli che resistono. Lui ha la pelle dura in un certo senso, cioè la sua vita assomiglia a quella di un orologio. Tutto è preordinato, tutto è programmato, la sua pelle non trema, è assolutamente impermeabile, non ha emozioni, si tiene lontano dalle donne, che lui considera essere un fremito insopportabile, e vive, oltre che per il suo lavoro, per andare in piscina. Su e giù, nelle vasche. La piscina è un rettangolo, dice, dove tutto è prevedibile. Si misura il tempo della sua nuotata mattutina, tutte le mattine. Quest'uomo fa su e giù in piscina. Qual è uno dei suoi sintomi di cui parla l'analista? L'angoscia di fronte al mare. Quando si trova a nuotare in mare, è attraversato da una scossa di panico, che gli rende impossibile nuotare. E pensa nel mare ci sono mostri, esseri informi, alghe, pesci pericolosi. Nel mare ci sono le donne. Meglio allora la piscina, la pelle, come dire, preservata nella sua natura immacolata, senza essere aggredita da mostri senza nomi. Da dove viene tutto questo? Anche qui una pietra, una scena traumatica. È bambino, 4-5 anni, cammina con la sua mamma, mano nella mano, lungo il bagno asciuga. Arriva improvvisamente un'enorme onda che gli travolge. Le due mani si staccano. Il bambino ha la sensazione di morire annegato. Viene salvato effettivamente dalla mamma. La donna è questo per lui. È l'esperienza di un'onda che non si può governare, di un'onda travolgente. Per questo si è sempre tenuto lontano dalle donne, lontano dall'amore, lontano dal fremito della pelle. Meglio il rettangolo definito della piscina. Cosa fa un analista in un soggetto così? Tante cose, ma diciamo. Fa in modo che l'angoscia nei confronti della donna, cioè l'angoscia nei confronti della separazione dalla madre, che incontrare una donna implica, si trasformi nella meraviglia nei confronti del mare. Della meraviglia nei confronti della donna. È un lavoro difficile, ma questo deve accadere. L'angoscia deve lasciare il passo alla meraviglia, alla meraviglia del mare. Un altro esempio di pelle di cui spesso parlano i pazienti, soprattutto in questo periodo dove siamo stati travolti dalla pandemia. La pelle è il luogo del contatto, ma il contatto è stato in questi anni luogo di morte, di infezione possibile, potenziale. Ci siamo dunque tenuti a distanza. Ora, questo tema del distanziamento, pre-Covid, è un tema che definisce l'umano. Uno dei primi movimenti dell'umano, ma anche della storia dell'umanità, è quella di tracciare un confine. Tracciare un confine significa distinguere l'interno dall'esterno, il nemico dall'amico, il familiare dall'estraneo, tracciare un confine. Se voi leggete le prime pagine di un libro straordinario di Canetti intitolato Massa e potere, vedete che Canetti si sofferma su un'esperienza quotidiana nostra, che è quella di quando camminando per strada urtiamo uno sconosciuto. Accade, quando c'è tanta gente, sui mezzi pubblici, accade. Che cosa accade, dice Canetti? È un brivido, un brivido insopportabile. Qualcuno viola i nostri confini, urta i nostri confini. Il brivido dello sconosciuto porta con sé il rischio di una perturbazione della nostra identità. Se volete questo piccolo frammento di vita quotidiana, amplificato dal punto di vista politico, diventa il grande tema della ospitalità, dell'accoglienza, della xenofobia, dell'irrigidimento dei confini, del rafforzamento dei confini, diventa l'amore, la passione che molti umani hanno, che tutti gli umani hanno, dovremmo dire, per essere onesti intellettualmente, nei confronti del muro. Del muro che ci difende, della barricata che ci difende dall'incontro con l'altro. Questo è il vero tema che concerne il fascismo, no? Il fascismo, per come io leggo le cose, non c'è il rischio che ritorni nel nostro paese. È una stagione storica, definita, collocata, diciamo, in un certo tempo, ma, come diceva Umberto Eco, esiste una dimensione eterna del fascismo, che riguarda ciascuno di noi, però. Cioè la difficoltà a accogliere le straneità dell'altro, la difficoltà ad aprirci alla dimensione intrusiva dell'altro, la difficoltà ad aprire la porta. Il fascismo è un desiderio, è un desiderio che accomuna l'umano. Abolire il contatto con lo straniero, abolire il contatto con l'altro, disinnescare la possibilità dell'incontro, trasformare il mare in una piscina. Questo riguarda tutti noi, per questo Deleuze diceva, volete essere antifascisti? Per essere antifascisti bisogna sconfiggere il desiderio fascista che è in ciascuno di noi. Le anime spezzate, scriveva Spinoza, e impaurite. Io aggiungo, dal mare le anime spezzate, impaurite, dal mare cercano un sovrano, cercano un padrone, e il padrone cerca le anime spezzate, impaurite dal mare. Un'altra domanda che possiamo porci sempre sulla pelle è se la pelle ha un nome. Mi fa venire in mente questa domanda, no? La pelle ha un nome, ha uno straziante lutto che ho avuto modo di seguire di un mio giovane paziente, un uomo di 40 anni, che ha perso la sua amatissima moglie, ancora più giovane di lui, stroncata da una malattia incurabile. E quest'uomo, quando parla di lei, parla innanzitutto della sua pelle, del profumo della consistenza particolare della sua pelle. Non esiste amore se non della pelle. Non esiste amore se non dei corpi. Non esiste amore tra le anime. L'amore passa sempre attraverso la pelle del corpo. E la morte, l'esperienza della morte, è l'esperienza che non abbiamo più possibilità di stabilire nessun contatto con il corpo che abbiamo amato. Che questa perdita è definitiva. non potrò più sentire la morbidezza, la consistenza, la meraviglia della sua pelle. La sparizione del corpo è nella morte irreversibile. È per questo che gli esseri umani, dall'origine dei tempi, in modo più o meno rudimentale, più o meno sofisticato, hanno costruito meccanismi, anche dispositivi, anche ordigni, per intercettare le voci che provengono dall'aldilà. Parlo in una città dove questo tema è stato, diciamo, molto diffuso. Il tema dello spiritismo, dell'intercettare intercettare la voce del morto. Ma che cosa vuol dire intercettare la voce? Vuol dire confutare l'esperienza traumatica che morire significa non essere più in un corpo. Rendere impossibile il contatto tra i corpi. E i corpi, la pelle, è uno dei corpi degli amanti, la geografia erotica del corpo, è uno dei grandi temi che attraversa la Bibbia. Quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, o il primo testamento, o almeno per i suoi primi libri, la Torah. In questo straordinario testo voi trovate un capitolo che si chiama il Cantico dei Cantici, dove in primo piano è la pelle dei corpi. È curioso, no? Siamo abituati, almeno io sono stato abituato da un catechismo penitenziale cattolico a vivere il corpo come luogo del peccato. Ci ho messo vent'anni d'analisi per, diciamo, emanciparmi da questa cultura che ho. Ma nel testo biblico non c'è niente del genere. Anzi, esiste un antiplatonismo radicale del logos biblico. Antiplatonismo cosa vuol dire? Vuol dire che mentre in Platone il corpo è concepito come il carcere dell'anima, la follia dell'anima che deve essere emendato dalla ragione filosofica attraverso un'operazione di purificazione, di ascesi, beh tutto il logos biblico, in particolare i Vangeli, ma già nel primo testamento l'essere umano è il suo corpo. Il divino ha un corpo, ha una pelle. E se voi aprite questo canto, il canto dei Cantici, che cosa trovate? Voi trovate l'esaltazione erotica della caviglia, sto citando, eh? Della caviglia, del piede, delle gambe, della schiena, dei capelli, degli occhi, del volto, delle labbra, delle braccia, della tua pelle. È un'esaltazione assoluta del corpo erotico. Tant'è che la donna protagonista di questo canto è nera, la sua pelle è scura. Che cosa vuol dire? Che è nera, che la sua pelle è scura. Vuol dire che assomiglia al mare e non alla piscina. La piscina noi vediamo tutto, nella donna non vediamo niente. Cioè la sensazione che da bambino avevo quando osservavo mia madre uscire dal parrucchiere con lo chignon, si dice, pensavo è un extraterrestre. La sua bellezza era la bellezza di un extraterrestre, pensavo. Da dove viene? Viene dal deserto, dice il cantico. Lei viene dal deserto, lui apre la sua porta. Lei è inappropriabile. Lei, appunto diremmo con quello che sto cercando di dirvi oggi, assomiglia al corpo, ma assomiglia al mare. Ma la domanda che il cantico si pone è ma questa geografia della pelle, la geografia erotica della pelle, che cosa rende in questa geografia erotica della pelle? Unico l'amore. Perché tutti i corpi hanno caviglie, gambe, ma cosa rende unico? E qui Lacan ha saccheggiato questo passaggio e dice il sigillo del nome. Allora che questo naso, questi occhi, questa pelle, queste labbra, questo volto hanno un nome che rende tutti questi dettagli del corpo divini, cioè insostituibili. È il nome che rende il corpo insostituibile. Perché, come dice Lacan, l'amore può essere solo amore per il nome, non amore in generale. L'amore per il seno in generale, per le gambe in generale. È il divino dettaglio che si aggancia al nome. È quello che nel cantico viene descritto in modo soave come il profumo del nome. È il nome che assomiglia ad una pelle, che è quello che il mio paziente non riesce a dimenticare e a sostituire con nessun altro corpo, con nessun altro nome, al punto che la chiama nella notte. Una cosa che accade molto spesso nei lutti amorosi profondi. Deve pronunciare il suo nome. Anche quando va a fare la spesa, anche quando cammina per strada, quando è solo in casa, pronuncia il nome dell'amata. Perché il nome gli fa sentire qualcosa della pelle. Pronunciare il nome. Io stesso devo dire, quando insegno, apro una piccola parentesi aneddotica che chiudo immediatamente, ma quando faccio gli esami in università, se arriva una giovane studentessa che porta il nome di mia moglie, sono più predisposto. Ho un atteggiamento, diciamo, contro-transferale più predisposto. Perché? Perché il nome, quel nome, ha un profumo. Ecco, il nome ha un profumo. Bene, passiamo a... ma vedrete che il nesso è molto in evidenza. a un passaggio dei Vangeli. In particolare Marco insiste su questa scena, che immagino sia presente a tutti, ma la voglio non dare per scontata. Gli scribi, i farisei, i dottori del Tempio, osservano i discepoli di Gesù mangiare con le mani sporche, con le mani immonde. E immediatamente, rivolgendosi al Maestro, dicono, ma come? Mangiano con le mani sporche. La loro pelle è sporca. La pelle delle loro mani è sporca. Perché non intervieni? Non si lavano. Nel mondo ebraico, sapete, esistono rituali di purificazione che devono precedere anche il tempo della commensalità, rituali, culti. E loro mangiano con le mani e le loro mani sono immonde. Sono impure. C'è una impurità che contamina. Ricordano queste mani? Mi hanno ricordato queste mani immonde, impure, sporche, di terra. Le mani degli apostoli che mangiano. Ricordano molto quelle mani? Mi hanno ricordato le mani, non abbiamo qui l'immagine, sarebbe stato bello commentarlo. Dei mangiatori di patate, di Van Gogh. Mani callose, scure, sporche di terra, sporche di fuliggine. Gesù interviene e dice, ma tutto è bene. Dico io, eh? Io traduco l'intervento di Gesù così. Tutto è bene. Tutto è nel mondo al di là del bene e del male. Non c'è male nelle cose che entrano nel nostro corpo. Non c'è male. Il bene e il male non sono cose che entrano nel nostro corpo. Il mondo, lo splendore del mondo, è il luogo del bene. Il male può venire solo da dentro. L'impurità può essere solo dentro, non da fuori. Cioè, la legge che definisce l'esistenza del male non è scritta sulle pietre. Questo lo dice anche la Torah, eh? Lo dice anche Mosè, che pure scrive la legge sulle pietre, no? La legge non è scritta sulle pietre, ma la sola legge che conta è scritta nel cuore. E allora quanto si chiede Gesù è indurito, lo cito, è indurito il vostro cuore. Per ritenere che il bene e il male siano delle cose che vengono da fuori e non da dentro. Lo dice Sant'Agostino nelle confessioni, che torna su questo passaggio implicitamente, dice una cosa veramente scandalosa. Dice se uno, lo cito, e se uno fa il bene, fa oggettivamente del bene a qualcun altro, ma lo fa contro voglia, nei miei termini lo fa senza desiderio, se uno fa il bene oggettivamente, ma lo fa senza desiderare di fare il bene, quello che fa non è il bene. Come dire, a determinare il bene non sono valori scritti sulla pietra, ma è ciò che è scritto nel nostro cuore. Se uno fa il bene senza desiderio di fare il bene, non fa il bene. Significa che il bene è il desiderio di fare il bene. Poi noi possiamo essere storti, peccatori, possiamo essere dei disgraziati, ma tutto questo non ci condanna, perché ciò che definisce il bene è appunto ciò che è nel cuore. Quindi l'impuro non è fuori, ma è dentro. Non è sulla pelle, ma è nel cuore. Allora, per farvi capire bene intanto la continuità tra questa posizione di Gesù e il testo biblico, voglio citare un passaggio di straordinaria bellezza, così abbiamo anche questa possibilità di leggere la Bibbia, di straordinaria bellezza che si trova nel Coelet, che è un libro biblico fondamentale, amatissimo da Leopardi, da Schopenhauer, citato da Lacan molte volte, conosciuto anche col termine l'ecclesiaste. Vi riassumo rapidamente qual è la tesi generale di Coelet, da un punto di vista ontologico. La tesi di fondo di Coelet è che la vita, la nostra vita, di cui Gesù esalta lo splendore, in realtà è polvere. Questo è un punto molto interessante nel testo biblico in generale, no? Noi troviamo queste due rappresentazioni contraddittorie, aporetiche, della vita. Da una parte noi siamo immagine e somiglianza di Dio, da una parte il creato, il luogo della luce, il luogo dello splendore, della bellezza, della meraviglia, il cantico dei cantici, la geografia erotica del corpo e la geografia erotica del mondo. Dall'altra parte Coelet che ci dice la vita è un soffio, è vel, la vita è vanità, la vita è vacuità, la vita è un vuoto, la vita è uno spazio brevissimo tra due nulla. Eravamo polvere e polvere torneremo. C'è un circolo inesorabile. Noi siamo destinati a nascere e a morire come nascono e muoiono i cani, i gatti, l'erba e i fiori. Né più né meno. È la legge inesorabile della finitezza. L'essere viene dal nulla e va verso il nulla. Grande filosofo italiano che qui omaggio Severino è stato, diciamo, il solo a contrastare, diciamo, a provare a contrastare la legge di Coelet, che è la legge della morte, che è la legge della nostra finitezza. La pelle, potremmo dire così, la pelle invecchia e muore, appassisce e muore. È il destino di tutti gli umani e di tutti gli animali, no? Coelet, come Totò, potremmo dire, no? La morte è una livella. Livella gli esseri umani, gli esseri vegetali, gli esseri animali, le classi sociali. Tutti finiamo nella fossa. Per usare... Scusate, domenica mattina, voglio rattristarvi, ma adesso vi tiro su di morale. Non voglio rattristare. Tutti finiamo... E Coelet, tutti finiamo nella fossa. E dunque cosa resta? Questa è la domanda, no? Quando Gesù dice ma tutto è bene e Coelet dice ma tutto è polvere. Qual è il nesso tra queste due enunciazioni che sono bibliche allo stesso modo, no? Tutto è bene, non c'è impurità. L'impurità può essere solo dentro il tuo cuore, non c'è impurità nella vita, siamo polvere destinati a tornare a polvere. Qual è, diciamo, il punto di contatto tra queste due affermazioni? Beh, leggiamo... Adesso vi tiro un po' su di morale, almeno spero, perché in realtà ci sono tre risposte che Coelet dà pomeriggio, magari le vedremo tutte e tre. Questa mattina ne vediamo una sola che è la risposta al fatto che la vita è troppo breve, che noi corriamo affannosamente sotto il sole senza nessuna speranza. Evel è la parola che nella lingua ebraica indica proprio il vento, noi siamo vento, oppure indica, come dice un salmista in un'immagine bellissima, il vapore che esce dalla nostra bocca nei giorni d'inverno. Ecco, quell'attimo, no? Allora, cosa ci resta da fare? Gesù dice non esiste impurità nella vita, tutto è bene. Sentiamo il Coelet che risponde a questa domanda, eh? Se tutto è destinato a diventare polvere, se l'essere va verso il nulla, cosa ci resta? Qui lo cito, spero che sia convincente. Cosa resta? Su, mangia con gioia il tuo pane, bevi di buon animo tutto il tuo vino, perché Dio ha gradito le tue opere. Ricordati, in ogni momento della tua vita vestiti come se fossi a una festa. Bellissimo questo. E ne manchi olio profumato prezioso sul tuo capo. Insomma, goditi la vita con la donna che ami per tutti i giorni della tua vita ancora, per tutti i giorni della tua assurda esistenza che Dio ti concede sotto il sole, godi. godi in tutti i giorni della tua fugace esistenza, perché questo è il senso della tua vita, è del tuo lavoro faticoso per cui ti affatichi sotto il sole. E ancora, prima parte, seconda parte, ancora più importante, e tutto ciò che alle tue mani capita di fare, fallo sempre con decisione, perché non ci saranno più né mani, né attività, né risultati, né conoscenza, né sapienza, nell'aldilà, nella fossa dove tu stai andando. Vabbè, questo potevo anche evitarvelo, ma diciamo ho voluto infierire. ho voluto infierire. Questo è, no, godi. Cosa ci hanno insegnato? Questa è la bellezza, questo è lo splendore. È lo splendore del del godere di tutto lo splendore del mondo. Godere con le mani immonde, godere con le mani sporche di terra, godere senza pensare che la purezza si appartenga ad un altro mondo. La purezza appartiene al godimento stesso. La gioia è la espressione più radicale della purezza, della purezza del cuore. E mi avvicino dopo questo brano che spero ci abbia risollevato il morale al commento di questa ultima scena biblica che chiude il Vangelo di Giovanni che è, come sapete, l'incredulità di San Tommaso di Caravaggio. allora qui intanto come prima osservazione farei emerge con potenza l'idea che nel cristianesimo la parola chiave è la parola incarnazione. Cioè il corpo non è la pelle del corpo, non è semplicemente l'involucro dell'anima. il corpo non è un accessorio dell'anima. Non è la sua gabbia, non è la sua follia, non è la sua prigione, non è la sua morte. Potremmo dire che l'anima è sempre incarnata in un corpo. E quindi in questo caso il risorto perché Gesù torna a trovare i propri discepoli passando attraverso le porte chiuse della sala dove i discepoli stanno parlando ritorna risorto ma ferito. Questo è molto importante. Tutte le immagini cristologiche del Cristo risorto riportano sempre, quasi sempre le ferite, le ferite ai palmi della mano, ai piedi e al costato. Come dire che la ferita della pelle, la ferita sulla pelle ricorda che non c'è anima senza corpo e ricorda anche la dimensione finita, ferita della nostra vita, della nostra esistenza. Qui abbiamo due se avanziamo di un passo abbiamo due elementi che vorrei sottolineare. Il primo più teologico che riguarda il tema della prova cioè in fondo perché Tommaso è incredulo rispetto alla risurrezione perché vuole una prova esige l'evidenza della prova e qual è la prova? Mettere il dito nel costato lacerato del corpo di Cristo. questo dice Giovanni a termine del suo Vangelo è la dimensione primitiva della fede primitiva lo dico io è la dimensione primitiva della fede umana ma primitiva cioè la fede ha bisogno di prove ci devono essere dei segni e a Gesù stesso chiedono non solo gli apostoli ma anche il suo popolo di fare segni fai miracoli fai segni dai prove che sei il figlio di Dio la prova più grande è la risurrezione Tommaso dice bene allora questa prova mi convincerà ma voglio vedere di mia mano mettere il dito nel costato la prova è la fede che esige la prova per essere tale la fede che esige la prova per essere tale e in realtà tutta la predicazione di Gesù va nella direzione opposta cioè che la prova è la fede che è la fede la prova non la prova che giustifica la fede ma vi faccio un esempio che Lutero fa in un sermone meraviglioso strano in Lutero questo esempio ma insomma fa questo esempio molto psicanalitico freudiano dice pensiamo a un geloso io aggiungo un geloso sintomatico perché siamo un po' tutti gelosi no? ma uno proprio che ci perde la testa uomo donna che sia no? il geloso ha bisogno di prove della fedeltà dell'amato o dell'amata dammi la prova guardo su un cellulare lo controllo ho delle prove del Lutero ovviamente non si riferiva ai cellulari ma diciamo il geloso è alla ricerca di prove della fedeltà o dell'infedeltà dell'amata ma si chiede Lutero finché il geloso va a cercare la prova altrove rispetto a che cosa? rispetto alla fede dell'amore dell'altro rimarrà sempre insoddisfatto cioè nessuna prova che potrà recuperare sarà mai del tutto convincente a scongiurare il dubbio geloso tant'è che la gelosia pensate solo alla recherche di Proust a come Proust descrive la sua gelosia verso Albertin è una gelosia che si dilata anche Nanni Moretti ne ha parlato diciamo in modi più lievi è una gelosia che si dilata in tutto il tempo storico dell'amata è la gelosia anche del passato di ciò che è già accaduto è una gelosia inestinguibile non c'è nessuna prova che possa come dire assicurare il geloso sulla fedeltà dell'amata e allunque quella è la conclusione a cui giunge Lutero o c'è l'amore o non c'è e l'amore è fede che prescinde dalla prova cieca assoluta fino a prova contraria io giungerei no? e in questo senso l'incredulità di Tommaso manifesta la dimensione infantile della fede e Gesù non si sottrae alla prova perché sa che questa dimensione appartiene all'umano c'è bisogno per questo faceva anche miracoli c'è bisogno di prove secondo ultima considerazione poi vi lascio è che c'è di questo quadro una lettura incredibile che ho commentato in alcuni miei libri di Giannis Cunellis Cunellis è uno dei più grandi diciamo pittori pittori del secolo scorso anche di questo secolo è morto da poco da pochi anni ha sempre vissuto in Italia pur avendo origini greche ma fa un commento straordinario di quest'opera accostando quest'opera che è di Caravaggio ad un altro grande pittore italiano dico pittore per semplificare che è Lucio Fontana e dice che in fondo Caravaggio ci permette di cogliere fino in fondo l'operazione di Fontana che cosa fa Fontana taglia la tela ma cosa fa il taglio della tela mostra che diversamente da quello che noi pensiamo ereditando una tradizione idealistico egheliana crociana la tela non è uno spazio neutro bidimensionale dove la profondità è data dagli effetti del chiaroscuro no la tela non è uno spazio astratto teoretico bidimensionale spiritualistico la tela ha una profondità e allora Fontana quando taglia la tela frantuma una rappresentazione kantiana egheliana crociana dello spazio come spazio senza corpo e allora a quel punto cunelis può dire in Fontana la tela è il corpo di Cristo in Fontana la tela assomiglia alla pelle del corpo di Cristo e con questa immagine che vi auguro una buona domenica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti